Allora, sono qui con nonna Silvana, che adesso ha un nome d'arte, nonna Silvi, che di anni ne ha quasi 82. Allora, nonna Silvi ha iniziato a lavorare prestissimo, a quanti anni? 14 anni. E insieme alla sua splendida famiglia, qui sono con i nipoti Gabriele e Simone, hanno sempre fatto di tutto, si sono inventati tantissimi lavori, si sono reinventati nell'epoca, fin quando tutto è iniziato da un tortino di riso. La signora ha avuto l'idea di iniziare a vendere i suoi dolci. Com'è andata? È andata e mio figlio ha messo una bottega a Castelfiorentino e si vendeva poco o nulla. Ma io sapevo fare poco, ma cominciava a fare questi tortini di riso e vedevo che andavano via. Tutti i giorni allora mettevo a casa a fare i tortini di riso e gli mandava la bottega. Più facevo anche delle torte di mele, anche quelle venivano vendute. Io tutti i giorni facevo la mia parte in questo modo qui. Poi piano piano sono piaciute, qualche cliente in più è venuto e via via, qualcosina è successo. Qualche cliente in più, guardate dove siamo. È un laboratorio perfetto, stupendo, sembra aperto, non lo so, da un secolo. È invece un'attività che è nata da poco. Ma che cosa è successo, visto che siamo nel 2023, che Gabriele, che è suo nipote, che cosa si è inventato? Ho messo la nonna sui social network e abbiamo fatto il boom in un mese e abbiamo totalizzato 22 milioni di visualizzazioni e abbiamo raggiunto quasi 90 mila follower e arrivano un ordine da tutto il mondo. Tutti possono assaggiare le specialità della nonna. Tutti cercano la nonna, Silvia. Le vogliono un bene dell'anima. Perché? Perché lei è una donna splendida e oltre a raccontare... No, no, i segreti non li racconta, però racconta un po' di quello che le è capitato nella vita. No, dicevo che è splendida, no. Io dicevo splendida, no. I segreti non li racconto, ho la ragione. Che segreti devo raccontare? La pasta frolla. Io l'ho già detto, la pasta frolla. Eh? L'ingrediente segreto lo possiamo sapere? L'ova fresche. L'ova fresche. Ma fresche. Questo li fa tutte le... si sveglia tutte le mattine alle 6. Alle 6, ma un po' mi ci devo... mi devo mettere un po' il rossetto e non me lo sono messo. Mi devo sistemare un pochino. Per le 7 sono pronta. E lavora qui tutto il giorno insieme ai figli, insieme ai nipoti. Quindi fammi capire, Daniela. Che ci fa a casa, sola, sola? C'ha ragione. Silvana? Io sto bene lì, a meno pronto qualche d'uno. Qualcosa fa? Silvana, sono sicura che avrebbe fatto sempre qualcosa. Perché stare a casa da soli quando si può stare qui? Appunto, oltre tutto, è tutto fatto qui. Io chiamo, quello mi è pronto, l'altro dice ma fammi una cosa, siamo in ritardo, è tutto un correre. È tutto un correre, è tutto un correre. A me mi calma, questa è la mia vita. Se me la levano, mi ammazzano. No, 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 e chi gliela vuole levare? Se ci vuoi a casa io. Io vorrei sapere quanti vecchietti della mia età che ho un son con Silvana. Aspetti che Serena le vuole fare una domanda. No, la volevo salutare Silvana, nessuno lo aveva nessuno, anzi noi la ringraziamo, ma non ho capito, lei il rossetto se lo mette per i video perché non l'aveva mai messo in vita sua? No. Lei mette il rossetto per i video che le fa Gabriele? Il rossetto non ho mai, non so cosa voglia dire, io non so cosa voglia dire, ma è truccata, sarebbe a vedere. Non mi sa ora, mani in pasta, mani in pasta. Va bene, grazie Silvana, buon proseguimento.